Torna in presenza il tradizionale appuntamento estivo organizzato da Futur Dem. Stavolta i giovani progressisti si sono ritrovati ad Avellino, presso il circolo della stampa, per una giornata di lavori dal titolo per una scuola democratica, esperienze, progetti e idee. I dibattiti vedono la partecipazione di relatori di spessore, tra i quali il presidente del gruppo PD al Senato, Simona Malpezzi, il vicepresidente del gruppo Dem alla Camera, Piero De Luca, l'onorevole Umberto del Basso De Caro. L'obiettivo è riportare al centro del dibattito politico i temi della formazione, le disuguaglianze centro e periferia nel mondo della scuola, l'educazione non formale e l'apprendimento permanente. Come associazione Futur Dem noi abbiamo deciso di fare questa iniziativa ad Avellino, come bacino del sud, una scuola democratica nel senso di uguaglianza e che garantisca a tutti gli studenti la possibilità di poter non solo studiare a livello formativo, ma di offrire servizi uguali a tutti dal Nord Italia al Sud Italia. Quindi noi oggi parleremo, appunto, grazie anche alla partecipazione di tutte le associazioni territoriali che si occupano della materia, di parlare di progetti Erasmus che garantiscono ai ragazzi anche una formazione interculturale. La formazione ovviamente è la base per quella che si dice sempre nuova classe dirigente. Ovviamente parte dal territorio, deve essere una formazione sul campo e che deve garantire a ciascuno dei ragazzi che oggi si formano di poter decidere del loro futuro.